Buongiorno e benvenuti al nostro Focus Tg, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, tutte le notizie dalla nostra regione, parleremo di coronavirus, attualità politica naturalmente, cronaca, insomma tutto quello che è successo questa mattina che sta ancora succedendo, avremo i collegamenti con i nostri giornalisti da Vicenza, Bassano, Padova, tutte le aree coperte dai nostri telegiornali, quindi insomma un'ora nella quale stare qui con noi e sentire cosa sta accadendo nella nostra regione, tutto questo è visibile anche in streaming, è appena partito lo streaming sulla pagina Facebook di Rete Veneta e sulla pagina web di Rete Veneta, in modo tale che chi non ha una televisione sotto mano, chi è fuori, chi è in pausa, pranzo o se avete persone all'estero, lontane dal Veneto che vogliono sentire quello che sta succedendo qui, potete consigliargli di dare un'occhiata ai nostri social e alla pagina web, ma andiamo a cominciare. Prima di andare a vedere la cronaca, come sempre cominciamo il nostro telegiornale con un'occhiata a quelli che sono i dati dell'azienda Zero della regione del Veneto, sono arrivati da poco, li vedete, report 11 settembre 2020, andiamo a vederli nello specifico, li ingrandiamo in modo tale che li possiate vedere anche voi. Allora, 95 i casi in più rispetto all'ultima rilevazione che era quella di ieri sera, sono 29 casi a Venezia, 23 a Treviso, 13 a Verona, 16 a Vicenza, solo 2 a Padova, nessuno nel cluster di Vaux e poi pochi a Belluno e Rovigo. Questo porta il numero dei casi attualmente positivi a sfiorare quota 3.000, è un po' che non si arriva ai 3.000, ma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Di questi 3.000 sono gran parte, vediamo, a Treviso 941, a Padova 306, Verona 407, Venezia 419, 458 a Vicenza e poi giù gli altri. Questo porta il numero complessivo, la prima tabella la vedete qui, dei casi dall'inizio dell'emergenza a 24.529 e la conta delle persone che hanno perso la vita prosegue senza sosta con numeri per fortuna molto bassi, ma comunque insomma vengono conteggiati anche i decessi se non quotidianamente, ma quasi, sono 2.138. Questo dato riguarda tanto gli ospedali quanto le strutture extra ospedaliere, è un dato cumulativo dall'inizio dell'emergenza e potete vedere questa tabella. Poi i negativizzati sono 19.427, ovvero le persone che risultate positive a un primo tampone si sono poi negativizzate ai successivi due tamponi, sono 19.427, andiamo a vedere la seconda parte della tabella, dobbiamo ridurre un po' in modo da farvela vedere tutta assieme. Allora, questa qua è la parte della tabella che riguarda gli ospedali, vediamo che in questo momento ci sono 143 persone ricoverate, sono sempre meno numeri che scendono lentamente, ma scendono e questo è molto molto importante. Di questi 143, 91 sono ancora positivi e 52 si sono negativizzati. L'altra colonna importantissima è quella delle terapie intensive che se dovessimo vedere un solo dato in tutto il Veneto per capire come sta andando con l'emergenza coronavirus e questa è la colonna da guardare. Sono 17 le terapie intensive impegnate in Veneto, di cui 11 con pazienti positivi, 6 con pazienti negativizzati. Queste persone sono ricoverate a Padova, ce ne sono due, a Verona una persona, a Feltre uno, a Treviso uno e a Dolo uno, a Trecenta due, Schiavonia uno, Legnago uno. Questa è la situazione. Vediamo il delta, ovvero le differenze con l'ultima rilevazione. Nessun ricovero in più, un paziente in meno in terapia intensiva e una persona che ha perso la vita. Questa era la prima tabella che dobbiamo sempre vedere, che dobbiamo sempre tenere presente prima di parlare di coronavirus in Veneto. Quindi dati che crescono, perché comunque i 95 casi, sì 95 da ieri a oggi ci sono, il fatto che non sia cambiato niente negli ospedali, anzi che ci sia un calo e nelle terapie intensive che rimangono stabili, vuol dire che stiamo parlando ancora una volta di casi asintomatici, per la gran parte asintomatici e parlando di casi asintomatici è sempre importantissimo andare a vedere l'altra tabella della Regione Veneto. Una volta viste queste due tabelle abbiamo già capito la giornata. Allora, questi sono i soggetti in isolamento domiciliare in Veneto, aggiornata a questa mattina, poche ore fa. È l'unica che avremo oggi perché la Regione ci fa avere un solo punto quotidiano sugli isolamenti domiciliari, come è giusto che sia, per evitare di fornire informazioni che potrebbero essere fuorvianti se decontestualizzate. Allora, 7908 il totale, lo vedete qui, è più o meno stabile, eravamo sopra 8000, è sceso ma insomma non cambia molto. Di questi i positivi sono 2029. i viaggiatori, ovvero le persone che sono rientrate da luoghi pericolosi, pericolosi tra virgolette, passateci il termine perché si parla comunque di luoghi nei quali magari la gestione dell'emergenza coronavirus non viene portata avanti come in Italia e in Veneto. Sono 2301, hanno fatto il tampone, stanno aspettando gli esiti oppure sono rientrati e devono ancora fare il tampone. Queste persone, i positivi e i viaggiatori sono stati a contatto con 3191 persone, quindi la ricostruzione della rete di contatti e incontri di una persona che poi è risultato positivo, che rischia di esserlo, è di 3191 persone in Veneto in questo momento. Altri, altre categorie 387. Questa è la tabella delle, per così dire, delle varie province. Quindi la zona nella quale ci sono più persone in isolamento adesso è Verona. Sono 1933 i veronesi in isolamento. Di questi 383 sono positivi, 696 sono viaggiatori rientrati dalle ferie. Si vede che i veronesi sono un popolo di viaggiatori perché è la provincia con più rientri dalle vacanze da luoghi ritenuti a rischio e i contatti sono 712. L'area in cui ci sono più positivi invece è quella di Treviso con 622 persone attualmente positive per un totale di 1.336 ma con solo 62 rientri dalle vacanze. Vediamo come va Padova, 1.109, quindi media bassa rispetto alle altre, con un numero di positivi comunque alto e molti viaggiatori. Sappiamo anche che i Padovani sono stati molto in vacanza nelle ultime settimane. 1.464 i veneziani di cui 311 positivi e 1.125 i vicentini di cui 352 positivi. Questa era la tabella degli isolamenti domiciliari in Veneto. Poi sentiremo i nostri giornalisti dalle varie zone del Veneto, le varie province che ci faranno capire qualcosa di più di questi dati. Prima di andare avanti con i collegamenti, con le notizie, con tutto quello che è successo e con i nostri servizi, diamo un'occhiata alla cronaca perché arriva proprio pochi istanti fa, adesso ve lo facciamo vedere, un video da parte dei vigili del fuoco perché c'è stato un incidente molto grave questa mattina lungo l'autostrada a 4 al chilometro 418 fra i caselli di Santonà 90 e Roncade in direzione Venezia per un incidente fra mezzi pesanti. Non ci sono persone ferite, poi vedrete le foto e capirete perché questa può risultare una notizia importante. I pompieri sono arrivati da Santonà con due auto e mezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, i due autisti sono usciti senza apparenti danni fisici e sono stati controllati, vedete il video dei pompieri, vedete come sono ridotti i mezzi, sono stati controllati dal personale sanitario del Suem. Il carico di uno degli automezzi che trasportava sacchi di cemento è caduto lungo la carreggiata. A questo proposito vi facciamo vedere anche le foto che ci sono arrivate sempre dai vigili del fuoco grazie alla pronta regia di Renzo Rigon che ci insegue in questa scorribanda fra foto e video. Vedete cosa è stato buttato in mezzo all'autostrada, questa è la cabina, è incredibile che l'autista ne si è uscito il leso, vedete i vigili del fuoco costretti a spostare i sacchi, questa è la cabina, ma sono in corso, erano in corso poco fa le operazioni di recupero del carico e di recupero anche degli automezzi coinvolti, naturalmente sul posto, l'oppostrada, il personale di autovie. Veneto, traffico bloccato, quindi questo è un incidente accaduto alle 8 e mezza di questa mattina, cercheremo di capire se la situazione del traffico è ancora ferma, naturalmente a quell'ora un incidente in A4 in quella zona avrà causato sicuramente lunghe colonne, il traffico poi si è riversato come sempre succede sulla viabilità minore con tutte le conseguenze del caso. Allora, noi aspettavamo i primi collegamenti con i nostri giornalisti, ma prima di andare a sentire cos'è successo in Veneto, diamo un'occhiata a queste immagini, sempre comunque toccanti, che ci arrivano da Padova, ce le ha mandate Francesco Ratai che ha seguito la cerimonia di commemorazione dell'11 settembre, perché ricordiamo che oggi è l'11 settembre, 19 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle. Padova, a Padova c'è un monumento molto importante, che è il monumento Memoria e Luce, realizzato da un grande architetto in memoria delle vittime dell'attentato dell'11 settembre 2001, è nell'area delle Porte Contarine, in pieno centro storico ed è in pratica quasi l'unico o uno dei pochissimi monumenti contemporanei della città, si chiama Memoria e Luce, un architetto Libeskind di statunitense, di origine polacca, di fama internazionale, che viene ritenuto fra i 12 più importanti architetti mondiali, che aveva vinto all'epoca il concorso per la ricostruzione della laurea di Ground Zero a New York, dove c'erano le Torri Gemelle, dove c'era tutta quell'area che è stata rasa al suolo dopo l'attentata al World Trade Center del 11 settembre 2001. Queste sono le immagini, potete vederle, le autorità cittadine, provinciali, le forze dell'ordine, la regione rappresentata da un assessore, hanno reso onore alla memoria di chi ha perso la vita in quell'attentato e dopo, perché la conta dei morti è proseguita per lungo tempo. Il sindaco Sergio Giordani, un discorso che poi sentiremo nei nostri telegiornali, delle nostre emittenti questa sera, un modo molto toccante di ricordare quel che è accaduto, perché si sono passati 19 anni, ma l'attentato alle Torri Gemelle ha cambiato completamente la storia e volendo fare un parallelismo che può apparire anche forzato, ma insomma quello che sta succedendo oggi con il coronavirus è qualcosa che cambierà altrettanto le nostre vite in modo magari meno traumatico rispetto a una serie di attentati che hanno devastato New York e anche, ci ricordiamo, altre zone degli Stati Uniti, però comunque da quel momento in poi niente è più stato lo stesso e da questo momento in poi, dal 21 febbraio, quando in Veneto c'è stato il primo caso, partita l'emergenza del coronavirus in poi, niente è più stato uguale a prima, vedremo cosa succederà poi, vedremo se fra qualche anno saremo a commemorare anche chi ha perso la vita in questa emergenza coronavirus in modo simile a questo. Queste erano le immagini delle commemorazioni degli eventi dell'11 settembre 2001 a Padova e poi sentiremo i nostri giornalisti padovani perché a Padova è successo anche dell'altro, c'è stata della cronaca, ci sono state anche importanti conferenze stampa di carattere sanitario, ce ne è stata una particolarmente importante anche qui a Bassano con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, ma fra poco ce la racconterà il nostro Federico Fusetti che era sul posto. Detto questo, noi possiamo chiudere questa prima parte della nostra informazione di Focus Tg, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo con tutti i servizi, le interviste, i collegamenti Skype del Veneto, ma state con noi perché durerà davvero pochissimo. Buongiorno, bentornati a Focus Tg, anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e parliamo di Veneto ma parliamo adesso di Padova perché abbiamo la nostra Valentina Visentin in collegamento dal centro città, ci pare centro storico addirittura Palazzo Moroni, Valentina, quindi che cosa è successo a Padova? Siamo a Palazzo Moroni perché stiamo per seguire una conferenza stampa con tutte le indicazioni che verranno date dal Comune per la riapertura delle scuole lunedì 14 settembre, quindi oggi verranno date tutte le indicazioni sulle aperture appunto dei plessi scolastici di come si dovranno comportare gli alunni, di quali sono le modalità di ingresso, un po' ce le ha già anticipate Vò perché ieri come ben sapete sono ripartite le scuole elementari e medie in anticipo perché poi i ragazzi di Vò avranno il piacere di avere la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che lunedì pomeriggio inaugurerà l'anno scolastico e quindi i ragazzi hanno cominciato prima per non perdere ulteriori giorni di scuola ma soprattutto per prepararsi con tanti eventi all'arrivo del Capo dello Stato, lunedì invece poi sarà sulla volta di tutte le scuole della città e della provincia. Sul fronte trasporto un po' si stanno cominciando a delineare quelli che saranno gli scenari dei prossimi mesi perché il Prefetto di Padova ci ha confermato che saranno messe a disposizione delle corse extraurbane che porteranno i ragazzi dalla provincia alla città direttamente nelle vicinanze dei plessi scolastici e quindi evitando di fare i cosiddetti cambi in stazione per prendere poi un ulteriore mezzo per arrivare a scuola anche se poi tutte le misure in termini di trasporto verranno tarate in base agli orari scolastici che verranno poi confermati a partire dalla 14 di settembre perché molte scuole stanno organizzando con la didattica sia online che in presenza e quindi insomma bisognerà capire effettivamente quale sarà il numero di utenti che prenderà gli autobus nei cosiddetti orari di punta. Ma sapete sempre per rimanere a Padova oggi è l'11 settembre e dovreste avere dei contributi delle immagini. Li abbiamo fatti vedere ma magari li facciamo ripassare mentre tu ci racconti bene quello che è successo. Stamattina il collega Francesco Ratai è stata la tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime dell'11 settembre che qui a Padova si tiene perché Padova ha deciso di dedicare molti anni fa una memorial alle vittime, memoria progettato dall'architetto Lipskind alle porte Contarine, memoria e luce con un pezzo del World Trade Center e quindi tradizionalmente Padova ogni 11 settembre dedica un suo personale ricordo a tutte le vittime dell'11 settembre e dai vigili del fuoco che si sono impegnati nel loro salvataggio. Questa mattina c'erano tutte le autorità civili e anche ovviamente i rappresentanti del Consolato americano. Una cerimonia quest'anno ovviamente in forma più ridotta perché con le norme stringenti anti-Covid per evitare assembramenti è stata una cerimonia più contenuta ma comunque sentita. Un omaggio che Padova credo sia una delle poche città italiane che ogni 11 settembre appunto dedica una mattinata proprio per ricordare i fatti di 19 anni fa. Valentina non so se voi avete già ricevuto la comunicazione di Lorenzoni è arrivato un comunicato stampa pochissimi minuti fa riguardante le sue condizioni cliniche avete fatto in tempo a vederlo altrimenti te lo leggo io da qui. Te me lo leggi tu perché io sono qui. Ora c'è un comunicato stampa arrivato pochissimi istanti fa in redazione. Continuo a seguire gli sviluppi della campagna elettorale sui media e grazie agli aggiornamenti costanti del mio staff dice Lorenzoni. Sto dando disposizioni operative per l'affissione dei manifesti e per le iniziative di questi giorni mentre stiamo organizzando le attività dell'ultima settimana. Per quanto riguarda le condizioni cliniche gli esami a cui sono stato sottoposto hanno dato tutti esito negativo. I valori di ossigenazione del sangue sono buoni. Su consiglio dei medici cerco per quanto possibile di riposare per superare definitivamente l'attacco virale. Per questa ragione rispetterò ancora per qualche giorno di convalescenza in ospedale in attesa della negativizzazione del tampone. Lo afferma il candidato presidente centrosinistra Arturo Lorenzoni in una nota arrivata pochi istanti fa. Quindi non cambia niente rispetto a quello che sapevamo. Di fatto Lorenzoni l'aveva detto anche ieri che avrebbe aspettato la negatività prima di uscire dall'ospedale. Comunque pare che a breve possa essere dimesso perché le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento. Nel frattempo tutto lo staff sta organizzando le varie conferenze stampa sui vari temi che erano in programma per la campagna elettorale. Due giorni fatti ha parlato di sanità. Oggi dovrebbe esserci un patto per la sostenibilità. Quindi una campagna che è portata avanti dai candidati nelle varie liste che poi sostengono Arturo Lorenzoni. Lui si tiene costantemente aggiornato. Ovviamente c'è bisogno di riposo perché ovviamente oltre al Covid c'è stato anche lo stress che ha fatto una parte importante nei due svenimenti che Arturo Lorenzoni ha avuto domenica mentre era in diretta con Pierpaolo Barretta e il ministro Boccia. Valentina, se non ci sono altre novità da Padova noi vi lasciamo andare alla conferenza stampa ma naturalmente l'invito è sempre solito. Se ci sono notizie di cronaca, notizie importanti non esitate a richiamarci. Noi siamo qui fino alle 13. Ringraziamo Valentina Visettin, Federico Cibotto da Palazzo Moroni. Grazie, buon lavoro. Noi rientriamo in studio e richiamiamo Federico Fusetti che invece è a Bassano, dovrebbe collegarsi con noi fra pochi istanti. Nel frattempo abbiamo sentito il candidato del centro-sinistra, Lorenzoni, rimarrà in ospedale, rimarrà fino a quando tutti gli accertamenti saranno negativi. Al momento il candidato sta bene, l'ossigenazione abbiamo sentito è buona, quindi la campagna elettorale proseguirà più o meno sugli standard di questi ultimi giorni, quando è successo un po' di tutto. ci si prepara al rush finale, da lunedì in poi la rincorsa agli ultimi voti, a tutto quello che potrebbe succedere, tutte le variabili possibili, immaginabili sul voto, ricordiamo sia delle regionali che di molti comuni del Veneto, che per quanto riguarda il referendum per il taglio dei parlamentari. Fra dieci giorni si vota, sarà una giornata molto importante. Allora noi abbiamo Federico Fusetti che ci chiama non allo Skype che ci aspettavamo, ma a un altro Skype, vediamo se riusciamo a parlare con lui e chiediamo soprattutto alla regia. Eccolo, l'abbiamo qui, chiedo alla regia di far passare l'altro Skype. Federico, buongiorno, ti aspettavamo alla porta principale, sei arrivato dalla porta sul retro, comunque nessun problema, l'importante sono le notizie come sempre. Federico, ti vediamo all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, cos'è successo? Sì, buongiorno Ferdinando, io cerco sempre di entrare in punta di piedi, per cui non volevo disturbare troppo, in realtà anzi chiedo scusa alla notizia di servizio, è che ho scelto il canale quello più obsoleto. Comunque siamo qui, ci vediamo, ci sentiamo, sono all'ospedale di Bassano perché? Perché è da qui un po' che si decidono le sorti anche degli altri ospedali collegati dell'Ulss 7 Pedemontana, cioè Sant'Orso e Asiago, in particolare quello di Asiago che preoccupa i cittadini e quindi in un certo senso la regione ha ritenuto giusto intervenire e tranquillizzare su questo fronte. Qual è la questione? La questione è il punto nascite di Asiago, cioè c'è il timore da parte dei cittadini che venga chiuso completamente e che sia un po' anche il segnale di uno smantellamento dell'ospedale di Asiago. Allora stiamo ai fatti, i fatti sono che la regione tranquillizza su questo e dice, in particolare l'assessore Lanzarino e poi stasera sentiremo nei nostri telegiornali anche le sue parole direttamente, ma non c'è nessuna volontà di ridimensionare l'ospedale di Asiago, il punto nascite effettivamente è chiuso momentaneamente perché non si trova il personale, quindi nonostante i concorsi, nonostante le richieste di avere personale di libera professione, quindi medici magari o in pensione o che non lavorano stabilmente in un ospedale, li stanno cercando ma non li trovano e quindi non si può tenere aperto il punto nascite di Asiago perché servono sia ostetriche che ginecologi, rianimatori e pediatri. Non essendoci l'organico completo per queste figure professionali si è dovuto chiudere momentaneamente un punto nascite che ci hanno portato i numeri, fino ad ora dal 1 gennaio ha visto 30 bambini, diciamo bambine nascere qui, quindi un numero anche molto basso. Nonostante questo la regione ha chiesto di tenerlo aperto ugualmente, è stato concesso ma ripeto se non ci sono i medici questo non si può fare. Allora come si rimedierà? Ci sono due concorsi che adesso andranno a formare la graduatoria tra settembre e ottobre per pediatri e anestesisti e pensate che l'assessore Lanzarin al microfono, ai nostri microfoni ha detto se qualcuno ha dei numeri di telefono di liberi professionisti che sono disponibili a venire a lavorare a Asiago, me li dia che io, assessore, chiamo contatto direttamente i medici al loro cellulare e cerco di capire se riusciamo a portarli ad Asiago perché i canali ordinari non si trovano. Ti interrompo, lo rilanciamo come appello. Allora questo è un appello praticamente in diretta del quale non sapevamo niente qui in studio ma l'appello dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin è il seguente. Se qualcuno conosce liberi professionisti disponibili a venire ad Asiago a lavorare datemi il numero di telefono, fatemi avere il loro numero di telefono e io personalmente li chiamerò per chiedere la loro disponibilità e per metterci d'accordo. Poi va anche detto come ci ha poi sottolineato il commissario Bortolo Simoni, non è che ok passa di qua che ti do i soldi in contanti e vieni a lavorare ad Asiago. Naturalmente poi serve una procedura standard amministrativa ma a questo si allungheranno un po' i tempi ma comunque ci si arriva. Non è un accordo che può essere fatto brevi mano. Però l'importante è la disponibilità della regione, in particolare dell'assessore, di chiamare direttamente i medici per mettersi d'accordo. Quindi noi di Rete Veneta diventiamo in questo momento un po' una cassa di risonanza per questa importantissima necessità di tutto un territorio e anche insomma una proposta da parte della regione. Noi l'abbiamo lanciata, poi la rilanceremo questa sera e vedremo cosa succederà. Federico? Sottolineiamo anche che il punto nascita è chiuso, quindi i bambini non nascono ad Asiago ma ci hanno ribadito che tutto il percorso delle donne in gravidanza è mantenuto. Quindi una futura mamma dal giorno in cui è in gravidanza fino al giorno prima di partorire è seguita dalla mattina alla sera dai medici di Asiago che addirittura chiamano a casa queste neomamme ogni due o tre giorni per sentire come va, quindi non sono abbandonate. È solo il momento della nascita che non può essere completato ad Asiago perché mancano i standard di sicurezza. Bene, noi approfondiremo questa situazione nel nostro telegiornale di questa sera. Federico, se non ci sono altre novità per quanto riguarda la sanità veneta io ti restituisco ai tuoi impegni poi ci rivediamo qui in redazione per tutte quelle che sono le verifiche del caso. Grazie Federico, buon lavoro. Allora, avete sentito notizia proprio in diretta che non ci aspettavamo, dichiarazioni importanti dell'assessore Lanzarin che utilizza un po' la stampa anche per cercare professionisti da far lavorare temporaneamente, poi con tutti i distingui del caso nell'ospedale dell'Altopiano. Ne riparleremo poi perché ora facciamo una brevissima pausa. State con noi, torchiamo tra poco. Buongiorno, bentornati al Focus Tg. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e nella fattispecie vi informiamo di quello che sta succedendo a Piove di Sacco perché abbiamo il nostro Guido Barbato in collegamento Skype, proprio ci sembra dall'ospedale di Piove di Sacco. Guido, se abbiamo sbagliato posto, dicelo subito che facciamo ammenda. No, Ferdinando non serve, sono proprio davanti all'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco perché quest'oggi è il direttore generale della Pulse 6 Euganea insieme ai vertici della sanità regionale, perlomeno visto che l'assessore Lanzarini era Bassano, c'era il presidente della commissione regionale sanità Fabrizio Boron, il sindaco di Piove di Sacco, hanno presentato insieme un nuovo mammografo del valore di 200 mila euro, l'ottavo, così almeno ha informato l'azienda ULS nel territorio di sua competenza, ovvero la provincia di Padova, l'ottavo mammografo di questa caratura. Abbiamo quindi chiesto al presidente della commissione sanità Fabrizio Boron se grazie anche a macchine come queste di alta qualità, di alta tecnologia, si potrà arrivare un giorno anche a decidere di abbassare l'età media dello screening mammografico per le donne che attualmente inizia dai 49 anni e ricordo che tempo fa ci fu così un movimento d'opinione, una raccolta firme, spontanea tra donne della nostra regione per chiedere appunto alla regione di poter abbassare l'età in cui iniziare gli screening mammografici. Mammografici, chiedo scusa. Il presidente Boron ha promesso di sì. Guido, tu sei stato, insomma abbiamo parlato di sanità, si è parlato anche di coronavirus che aria tira da quelle parti, nel senso si comincia a tornare alla normalità almeno per quanto riguarda la sanità, ma c'è sempre questa emergenza che incombe, è ancora incombente per quanto riguarda l'ospedale di Piove di Sacco? Ma ti dirò Ferdinando, ne ho approfittato dell'occasione per chiedere al direttore generale Scibetta della ULS6 di commentare il fatto che un terzo del personale della scuola della provincia di Padova, pari a circa 6 mila persone, non ha ancora al momento, non si è ancora sottoposto al test sierologico. Un terzo è una fetta piuttosto grossa, direi, piuttosto importante. Lui ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno e ha detto sì, però due terzi sì. Ok, d'accordo. Sì. Ha detto anche come, sì sì, che siamo d'accordo su questo, però ha detto è anche vero che la nostra ULS6 ha fatto tutto il possibile per mettere in condizioni chi lavora nella scuola ai vari livelli, dal personale insomma ausiliario ai tecnici, agli amministrativi, ai docenti di presentarsi presso il suo medico di base oppure come è scritto anche qui fuori dall'ospedale di Piove di Sacco, c'è uno specifico servizio, basta insomma seguire le frecce. Lavorando anche il sabato e la domenica, così ha sottolineato il dottor Scibetta, al che insomma i suoi commenti si sono un po' fermati qui ma fanno capire abbastanza che insomma come dire noi come azienda abbiamo fatto il possibile e poi se le persone si chiamano fuori sta la responsabilità di ciascuno, insomma io l'ho letta così. Questo insomma è l'ultimo. Sarà magari responsabilità anche nostra come giornalisti di raccontare e dare questi dati, poi i telespettatori si faranno un'idea su quello che è successo. Guido, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono notizie dalla Saccisica in questo caso ma in generale dalla Bassa Padovana... Sì, posso aggiungere una notizia Fernando? Vai Guido, vai vai vai. Allora io sono come vedete nella parte al sole l'ingresso principale dell'ospedale di Piove di Sacco, chi c'è venuto e molta gente è venuta anche da Padova, io anche io ho portato i miei familiari a fare alcune cose a Piove di Sacco perché si facevano prima, tipo a livello oculistico per esempio, sa che c'è un ingresso magari provo a farvelo vedere piuttosto angusto, è proprio l'ingresso dell'ospedale a ridosso del centro storico per cui insomma il traffico si ammassa tutto qua. È in corso un cantiere, poi stasera vi mostrerremo le riprese appena riesco a andarle a fare, dall'altra parte dove passa la strada che arriva da Padova e che compie se ricordate una curva di 90 gradi a sinistra, proprio una grande chicane, è in corso la creazione di una rotatoria di ingresso più comodo nella parte posteriore dell'ospedale, una scommessa del sindaco del PD, insomma del sindaco Gianella che anche lui ha lodato i progressi fatti dell'ospedale di Piove di Sacco pur essendo sindaco del PD, ha dovuto riconoscere questo insomma alla regione, una scommessa del sindaco Gianella per creare una via di accesso più sicura e più pratica pur essendo dalla parte opposta dello stabile. Ecco quindi casomai stasera vi faremo vedere questa novità che potrebbe essere pronta del tutto inaugurata tra un mese, così ci ha detto il sindaco di Piove di Sacco, Davide Gianella. Molto importante, una buona notizia di servizio. Guido, grazie per queste informazioni, se ci saranno delle novità, noi fino alle 13 siamo in diretta, non esitare a contattarci, noi torniamo in studio e a questo punto vediamo se riusciamo a contattare Gabriella Basso al volo oppure se ci convenga ma a questo punto sì, fare una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo da Arzignano perché ci sono delle novità che riguardano il campanile del paese colpito dal maltempo qualche giorno fa, state con noi torniamo fra pochissimo. Bentornati a Focus TG, siamo in chiusura ma abbiamo tempo di andare ad Arzignano dove c'è la nostra Gabriella Basso già posizionata con il collegamento Skype. Perché Gabriella? Quali sono le notizie? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori, siamo qui ad Arzignano perché il maltempo come sapete bene ha fatto disastri qui a Arzignano, ha scoperchiato tetti di scuole, di abitazioni, capannoni ma anche tetti delle chiese il campanile, qui siamo dietro di me, la chiesa di San Rocco, ne ho la conferma, è caduto il campanile ma soprattutto questa caduta, il campanile è piccolo, ma questa caduta ha messo praticamente in crisi l'intera struttura della chiesa e in questo momento ci sono gli operai all'interno che stanno mettendo i ponteggi proprio perché è pericolante. La chiesa è della parrocchia di San Rocco qui di Arzignano ma ovviamente anche il Comune si sta interessando per questa difficile situazione quindi il maltempo fa vedere ulteriori danni, cioè procede ancora, non è solo il momento della grandine, del vento ma anche successivamente continua ad avere i suoi devastanti effetti questo per quanto riguarda questo collegamento da Arzignano. Gabriella, naturalmente di questo parleremo facendo vedere anche tutte le immagini, tutti i lavori nel nostro telegiornale di Vicenza di questa sera. Mentre le 19.15, 19.20, insomma, nel TG di questa sera ci sarà un ampio servizio dedicato alla chiesa di San Rocco di Arzignano. Ma parleremo anche d'altro. Raccontaci Gabriella, raccontaci. Parleremo anche di un'operazione invece fatta questa volta dalla polizia locale, dal gruppo speciale, in NOS della polizia locale di Vicenza contro i tassisti abusivi. Una piaga ormai annosa a Vicenza, era arrivata veramente a un momento complicato con momenti di tensione fortissimi anche tra tassisti legali e tassisti illegali. Ebbene, nel giro di un mese la polizia locale è riuscita a scardinare questo meccanismo, 13 tassisti abusivi individuati, ma 5 sono quelli che sono stati poi effettivamente sanzionati. È stata ritirata, sospesa la patente, la sospensione va da 4 a 12 mesi, ma sarà il prefetto ovviamente a definirlo, e sanzioni economiche e amministrative tra i 1.700 euro e gli 8.000 euro. Questo al momento, ma il sindaco ha presentato anche un fascicolo in procura che potrebbero esserci anche risvolti, ovviamente, penali, perché ovviamente è un sistema quello che si era creato quasi un'organizzazione in un certo senso, perché i tassisti si trovavano tutti nello stesso posto, stiamo parlando di zone di Viale Milano, Stazione, Piazzale Bologna. C'era un distributore dell'Eni che era diventato una sorta di fermata stop abusiva dei tassi dove i clienti che avevano i tassi illegali, arrivavano o i tassisti che si trovavano lì ricevevano la chiamata. Ecco, ti dico tra l'altro che le tariffe davano dai 5 ai 15 euro e facevano trasferte per portare la gente a fare la spesa piuttosto che anche fuori comune. Quindi un colpo importante all'illegalità, una situazione di illegalità che ci pare di aver capito diffusa e annosa a Vicenza. Allora, noi siamo in chiusura. Se ci saranno notizie da Vicenza, non faremo tempo a darle nel nostro Tg, le daremo nei nostri telegiornali di questa sera. Lasciamo Gabriella Basso con Simone Squarcina ad approfondire la situazione del campanile di San Rocco ad Arzegnano. Buon lavoro Gabriella, buon lavoro Simone. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio, giusto il tempo di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati con noi anche oggi qui alla Focus Tg. Tutte le informazioni del Veneto, avete sentito le province di Padova, Vicenza, abbiamo sentito Bassano, Altopiano, notizie molto importanti, le approfondiremo nei nostri telegiornali di questa sera, ma noi vi diamo appuntamento stasera e poi a domani. Buona giornata.